Oggi è una giornata meravigliosa, oggi è una di quelle che va scritta nel cuore di tutte le persone che credono in una bella cultura di riscatto, di gioia e di amore. Oggi 100 anni per San Giovanni Paolo II. Ricordo ancora con grande emozione il giorno in cui mi scrisse una lettera datata 8 settembre 1994. Eravamo reduci di anni di violenza e volevamo mollare tutto. Però lui ci scrisse a noi del Parlamento della Legalità dicendo vi esorto a proseguire con fermezza nell'impegno per la rinascita di questa terra meravigliosa della Sicilia. E allora quando pensammo di dare vita al movimento del Parlamento della Legalità Internazionale lo abbiamo dedicato a lui. Abbiamo chiesto anche dal paradiso stacci vicino, portaci nel cuore, chiedi a Dio di aiutarci in questo cammino di riscatto e oggi anche oltre i suoi cento anni, oltre il suo compleanno, 81 per Giovanni Falcone. E Giovanni Falcone è nel cuore di tutti. Chi non ama Giovanni Falcone? Ricordiamole quelle due frasi di Giovanni meravigliose. Si muore quando si è soli e quando si viene dimenticati. E anche l'altra espressione molto particolare e molto bella. La mafia è un fenomeno umano e come tutti i fenomeni umani ha inizio e avrà la sua fine. E quando avrà la fine? Quando non si chiederanno più raccomandazioni, quando non si alzeranno più le cornetta del telefono, del cellulare per chiedere poltrone, per diventare personalità, dimenticando forse di essere persone umane. E allora noi vogliamo crederci, vogliamo affidare la nostra vita, i nostri sogni, la nostra speranza, la bellezza che ci alberga nel cuore a questi due grandi uomini, Giovanni Paolo II e Giovanni Falcone. Perché l'anatema che Giovanni Paolo II lanciò contro la mafia, lo dico, è responsabile, verrà una volta il giudizio di Dio, è lo stesso sogno di Giovanni Falcone che dice la mafia è un fenomeno umano e dobbiamo dargli le ore contate. Vogliamo fare un augurio a entrambi? Rimaniamo liberi. Vogliamo fare gli auguri di buon compleanno a San Giovanni Paolo II e a Giovanni Falcone? Diciamo no alla mafia, no alle raccomandazioni, no alle poltrone, no alla cattiveria, no all'arroganza, no alla prepotenza, no all'arrivismo. Faglicciamogli un regalo. Noi che ancora ci crediamo, noi che abbiamo ancora la bellezza di guardare negli occhi i bambini, i giovani, gli adolescenti, gli onesti. In questo momento mi viene in mente una frase di un ragazzo di Apricena, provincia di Foggia, scuola media, dove al termine di un incontro ha la mia domanda, per te cos'è la legalità? Lui mi guardò e con una lacrima mi disse prof è l'ossigeno degli onesti.